Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beradir e questo è Odalus the Dark Cold. Continuiamo il nostro viaggio. Anche se mi sembra che l'ultima volta non sia andata tanto bene, ma non fa nulla. Allora, selezioniamo... No, io direi di andare qui. Ok, qui sotto. Dovrebbe essere giusto. Non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere giusto. Vediamo. Sì, era qui che stavo. Già, già, già. Monumento ai tre antichi eroi. Oh sì, ora ricordo. L'acqua che spinge. Porca miseria. Bravo. Che figata. Oh, qui si salva. Attenzione. Mi fa del male, vero? Sì. Non un grosso problema, dai. Ah, questo fa più male. Ah, questi rompono. Cacchio. Vabbè, capito, va. Ma, ma davvero? Ti dispiace venirmi incontro? Grazie. Ah, molto meglio. Devo dire molto meglio. Cibo, cibo. Non riesco a saltare dove voglio. Ok. Urca. Odio questi spuntoni. Ma tanto, eh? Eh, certo. No, 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 no. No. Eh, che ce la possiamo fare. Non è andata benissimo, eh. Non è andata neanche male, ma non è andata benissimo. È andata veramente uno schifo, in realtà. Ah, già. Mi dimentico sempre che posso respingere i proiettili con... Con la spada. Uff. Questi sono tosti. Vediamo se c'è qualcosa di nascosto o no. Ce l'avevo sperato. Vieni. E dai. Ecco, appunto. Vieni qua? No, devi venire qua. Non può venire qua. Non può venire qua. Interessante. Oh, peste. Cavolo! Ho toppato la grande. Ma che... Ma che... Ma era rimasto soltanto un talismano? Qua ci sarebbe una cesta. Ma va bene. Eccola. Oh, tutte e due sono riusciti a prenderli. Fantastico. Ehi. Basta! Niente, non sono proprio in forma, bisogna dire, eh. Cioè, già normalmente faccio schifo. Stasera in particolar modo, devo dire. Ehi. Allora. Intanto andiamo qua così se resuscitiamo qua. Ok. Vai, spara. Bravo, ragazzo. Odio questi tipi. Dai, su. Ripeto, non so se non sono io in buone condizioni o se questo livello è più difficile di quanto avessi voluto. Ok. Anche questo è andato. Qua ci perderò un sacco di HP, io lo so. Ok. Cavolo, cavolo. Cavolo. Andiamo bene. Andiamo proprio bene. Ecco. Mannaggia tutto. Porca. Sì, sono decisamente fuori fase. È evidente. Maledetti vermoni balordi. Dai. Vieni qua, bello. Olè. E anche questa è andata. Ok, adesso i balestrieri li lasciamo là, dove stanno. Faremo finta che non esistono. E via. Verso nuove mirabolanti avventure. Dannazione. Vieni. 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 Tre colpi, comunque ce vogliono. Vieni. Scusate, ma quelli rompono particolarmente l'anima. Basta, eh? Basta, eh? Ok. ok ottimo no buono no buono affatto vediamo un po con la lancia e quanti ce ne vogliono mago dai potter ok chissà che mi sta a perdere sotto boh pipistrelli strelli strelli pipistrelli oh ok ok questa è stata una cosa carina no allora usiamo questo va ancora una torcia ce l'abbiamo perché non usarla scusate ok eh mo va bene una volta però due no perché non ti hanno mai fregato questi te la sei sempre cavata piuttosto bene oh mercante salve mercante non vende i talismani cavolo gael ha lasciato il suo castello per venire qui dicono sia in cerca di qualcosa qualcosa di rosso suppongo si se avesse un significato per me quello che hai detto sarebbe anche meglio ma in realtà l'unica cosa che avrei preso sarebbero state le le asce ma è calda questa è veramente infame wow vediamo eh ce la possiamo fare no fanno un sacco di danni ste lance bravo sei stato veramente geniale ok ok queste cascate sono ah sono sono complesse e mo che ce dobbiamo fa qua dobbiamo andare là sopra se si parebbe si cavolo 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 no perchè non vai ma questo è un problema ok uff wow bello sto livello mi è piaciuto mmm qui soffia aria del boss piccolo insetto tornatene nel buco da cui sei uscito e chi lo ordina neanche ti rendi conto di quanto ti trovi in chiaro svantaggio che stupido sono albei generale dell'armata della mano nera e annientatore di stolti insolenti quale tu sei ok sarai problematica oh no ok cavolo ok è un gran problema oh no devo riattraversare tutto adesso mmm non c'è tipo una scorciatoia no ma sul serio dai andiamo bene andiamo proprio bene ssmpia no dai proprio là sopra dove andrà casca e anche respawnato beh vale la pena andrà spendere due spicci per riprendese riprendese comunque allora come avrete letto su facebook questo video porta con sé un giveaway ma bisogna rispondere a una domanda una domanda complicatissima non è vero assolutamente è una domanda semplice e la domanda it is the seguent il vestito la skin vampire hunter a che saga ispirata non è una domanda difficile dai mi raccomando scrivetela nei commenti del video di youtube naturalmente non su facebook e questo vi darà diritto a partecipare al giveaway come ho detto la domanda è facile no? è il non imprecare ogni divinità che è difficile comunque secondo me ci deve essere una scorciatoia ok ok ahhh non faccia più quel gesto no non le posso respingere aia ma non c'è modo di evitarla sta cosa io mmm facciamola un altro tentativo andiamo bene andiamo bene eh no dai però così non vale eh peste e corna forse dopo bene e te adesso spettando ci ok non c'è bisogno di ucciderli per passare ottimo questo me sa di sì però sempre ad arrivarci ok dai non è andata così male uff non so perché come ho perso l'equilibrio lì niente vabbè adesso comincio a sparare dai no questo non me l'aspettavo cacchio ho fatto una figuraccia ho letteralmente fatto una figuraccia penso di aver capito come affrontare la signora che però parlava come un uomo si riferiva a se stessa come un uomo quindi non saprei ci riproveremo ci riproveremo e vedremo come andrà nel frattempo io vi ricordo per partecipare al giveaway bisogna scrivere nei commenti la risposta esatta detto questo mi raccomando mettete like al video iscrivetevi al canale anche perché se no non potrete partecipare al giveaway e si ya guardas 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 guardas